Ex stere, parla il proprietario. Vito Rosiello, noto imprenditore del Gallaratese, risponde all'assessore di Cardano al Campo Elena Mazzucchelli, in merito alla riqualificazione dell'area di Via Ferrazzi, che lui stesso, insieme ad un socio, ha acquistato ad un'asta fallimentare nel febbraio del 2018, con l'obiettivo di realizzare delle palazzine residenziali. Progetto che si è duramente scontrato con l'amministrazione comunale, dice Rosiello. Dopo mesi di solleciti, mi è stato detto che per procedere era indispensabile una variante al PGT, variante che però non poteva essere fatta se non dopo le elezioni del 2019. Ma non finisce qui. Il PGT attualmente in vigore, prosegue Rosiello, prevede che il 50% della proprietà resti al comune. Un paradosso, soprattutto se si considera che l'amministrazione comunale non ha nessuna intenzione di dividere con noi le spese di bonifica dell'amianto, che ricopre i capannoni della ex stere. Nel momento in cui ci siamo seduti a tavolo con il sindaco, con l'assessore e i tecnici comunali, la prima cosa che abbiamo detto è che il vostro 50% si tradurrebbe poi alla fine in un intervento insieme a noi per l'eliminazione dell'Ethernet che c'è sui capannoni, per le demolizioni e quant'altro, al pari, perché se siamo proprietari al 50%, al 50% si interviene. Per cui il comune, sappiamo che oggi i bilanci comunali sono quello che sono, per cui alla fine non avrebbe avuto mai la possibilità di poter intervenire su quello che sto dicendo. Si aggiunge il fatto che in quella stessa area sono presenti due lotti che fanno riferimento a soggetti terzi, che mai, prosegue l'imprenditore, accetteranno di cedere il 50% delle loro proprietà al comune. Pur di trovare un accordo, prosegue, abbiamo proposto di farci interamente carico dei lavori di riqualifica e messa a norma dell'area, realizzando sei piccole palazzine. Una delle quali veniva addirittura proposta come cessione al comune a titolo gratuito, diciamo con i parcheggi a distanti. Oltre alla messa in pristino dell'intera area, quindi viabilità, parcheggi, opere di urbanizzazione e quant'altro, che comunque prevedono un investimento di circa 6 milioni di euro. La risposta da parte dell'amministrazione fu ufficialmente che dovevamo presentare una richiesta di variante di piano, ma contestualmente ci fu detto, e non ero da solo, che trattandosi che eravamo prossimi alle elezioni amministrative, pertanto se ne sarebbe parlato nella nuova amministrazione. L'indecisione dell'amministrazione comunale impedisce il rilancio della città, conclude Rosiello. Quello che mi auguro è semplicemente che sindaco e assessore si diano da fare per sbloccare questa assurda situazione. L'assessore ha ribadito dicendo io finché sono lì, diciamo faccio l'assessore. Io sto aspettando soltanto quello che l'assessore faccia l'assessore, che il sindaco faccia il sindaco e che io faccia l'imprenditore.